musica bentornati ragazzi in questo nuovo game aspetta game 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 play game vabbè boh basta allora c'era il libro negro eh nero leggiamolo vediamo vediamo dobbiamo andare si leggiamo il libro intanto ti giriamo intorno così come una cazzo di trivella bene perchè si è bloccato ah salvataggio iniziata libro nero oddio no devo dire che è tutto no ragazzi qui è veramente tutto scuro non sono io con la mia mod proprio scuro per cazzo i suoi aspetta aspetta vediamo cosa c'è qua no non c'è niente allora vediamo che missione è beh io spero che non sia lunga minchia ma è buio beh sarà anche colpa delle mie moto però cazzo è buio no vieni qua vieni qua muori oh c'è un altro pelone eh pelone negrone vieni qua oh non mi vedi non mi vedi non mi vedi eh minchia sono illuminato non mi vedi abissale no no stai calmo 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 che cazzo è diventato così bu no oh 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 eh eh sembra sembra amnesia Madonna Che brutto sto viss... Muori, 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 muori Muori, cazzo, calcio, calcio è il culo, mi ha dato Oh, sì Allora Minchia, io Madonna, e boh, minchia Dei qua Allora, allora, mi sono rotto il cazzo Mi sono rotto il cazzo Mi sono rotto il cazzone Beh, cure suprema Poi una pozione così Bene, bravo, muori, muori No Sì Boh Basta Che cazzo è Stavamo parlando dei piselloni, eccoli lì a spuntare Bella lunga la missione No, è già finita Forca Vendicatore, è diverso Questo qui è più forte, più incazzato Aspetta, voglio provare questo Bello, bello, bello Bello, 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 come fate Bello Allora, cura Cura, suprema Riprendiamo l'ascia Allora, bella lì Ma che è sta cussa No Oh, ma è fortissimo sta cosa Ma che cazzo è Allora Innanzitutto ho sbagliato qua Guarda, 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 no, no, io me ne vado a leggere lì Vai, vai Madonna, che paura Completata Bella Bella lì Però è ancora lì Il coglione Vieni Oh, non muore Non muore Non muore Non vuole morire Non vuole morire Guardalo Ma, eh sì, vabbè Scorregge Spare, vabbè Muori 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 No, 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 no Ti vuoi Vabbè Eh, così è morto Bene Oh, guarda Gemma suprema Paralisi Gemma dell'anima negra Eh, nera Basta Poi Questo non mi interessa Non mi interessa Non mi interessa Spada di ferro Minchia Ci faccio tutto Eh, segreto dell'arcano Vediamo Dell'arcano dell'ano Allora Per 30 secondi gli incantesimi non consumano magica No Eh, per 30 secondi gli attacchi caricati Eh, non consumano vigore No Protezione Eh, per 30 secondi subisci la metà dei danni Va bene Allora Minchia Minchia Non c'è manco stato il caricamento Porca puttata Oh, eh Ok, comunque La missione non è stato Lungo Non è stata lunga la missione Guarda Eh, sì Eh, non è Comunque Adesso usciamo fuori Eh, vediamo se riusciamo poi a ritrovare un'altra missione Che c'è Che c'è Che c'è qui Ah, ma guarda Eh, sì È vero Vero Un urlo Un urlo 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 Oh Vento ciclone Vediamo Allora Il tuo Crea un ciclone turbinante che sembrano il caos tra i nemici Bello Questo è interessante Minchia Porca puttana Ha fatto un danno Dio mio Dannissimo proprio Più più Il danno più danno più dannoso del danno Allora Boh Direi di aver finito la missione ragazzi Sì E quindi Che cosa possiamo dire Per concludere questa Questo gameplay Questo bellissimo gameplay che Sicuramente Molte avranno visto fino alla fine Spero Io spero Nessun oggetto Bello E allora Cominceremo con un altro modo Guarda Mirac lì tutto figo Così Con la sua spadina Si fa tutto il figo No? Tanto Tanto T'ho ammazzato Inutile Quindi Potrei essere io il sostituto di Mirac No No Non mi faccio cedere in tentazioni Allora Abbiamo finito La missione Così E tende Se ne sono date Così Subito In Dieci minuti di gameplay Se ne sono date tutti Va bene Comunque ragazzi Ci becchiamo al prossimo gameplay E vediamo Se riesco a trovare qualcosa di più interessante Visto che Ho Esplorato tutta Softdime Softdime E ci rivediamo Un altro gameplay Ciao a tutti E ci rivediamo a fare la visione di